Giorno 4, siamo a Grumento Nova in direzione Ligiano, che è là. Continua il viaggio. Grazie a tutti. Siamo arrivati a Vigiano. Città dell'Arpa, famosa soprattutto per la Madonna Nera, che oltre alla sua particolarità della colorazione è la protettrice della prigione basilicata. Continua il viaggio. Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alpa, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. Nei tuoi pensieri, nei tuoi problemi, ti vesti sbagliatamente non menti mai niente che possa attirare attirare. Attenzione, un particolare solo per farti guardare. E con la faccia pulita e con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela con libri di scuola. E con la faccia pulita e con la faccia pulita. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho appena visto la Madonna, la Madonna nera di Vigiano. È difficile descrivere certe emozioni e davvero ti colpisce tanto per la sua immensità, comunque brilla, il bimbo in braccio è qualcosa di incredibile, è dolce e particolare. Questa cosa della pelle è scura e grande, senti la sua forza, è davvero incredibile. Continuiamo il viaggio. It goes like this, the fortified, the men who fall at the major life, the battle king compulsion. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. molto molto bella la villa del marchese san felice adesso vado a riposare un po in tenda mi preparo per la sagra del vino di questa sera siamo alla sagra del vino a vigiano c'è un sacco di gente ha una fame incredibile andiamo a mangiare no 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 te puoi 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 Grazie a tutti. Buonasera, anzi, buonanotte a tutti. Qui da Vigiano è stata una giornata molto lunga, abbiamo visto la Madonna Nera, emozionante. E dopo la sagra del vino, dove siamo tutti un po' leggeri, ci sta questa canzone prima della buonanotte. Buon ascolto. Guardo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché, crolla il pavimento e mi sciolgo qui dentro. Quando penso a te, e mi sento denso perché, io ti tengo qui dentro di me, io ti tengo qui dentro con me. M'è sombriaccato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado di notte a pescare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che è sotto il rimbomba, è come rimbomba. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.